Nessuno va sulle montagne per morire. La gente corre rischi, ma nell'alpinismo la sicurezza è tutto. In ogni caso, procedendo verso l'alto, il margine si restringe. Gli alpinisti imparano a valutare i pericoli, ma quando le loro valutazioni sono sbagliate, il gioco diventa fatale. The Fatal Game, il gioco fatale. Di tutte le guide, Mark Vichel è una delle più fortunate. A 37 anni ha scalato a Liverest due volte per la via più dura, quella della Cresta Nord, ed è riuscito a cavarsela. Oggi sta guidando una squadra di scalatori inesperti sulla sesta vetta più alta del mondo, il Cho Oyo, in Tibet. Questo è l'alpinismo degli anni 90, è desiderio di conquistare la vetta. Chiunque può scalare una montagna di 8.000 metri e sciare sulla sua cima. È un'altezza accessibile. Però Mark Vichel non si fida più di tanto. Si preoccupa molto per la vita dei suoi clienti. Lui sa che la montagna può diventare facilmente un killer spietato. I piedi di Mark hanno pagato a caro prezzo una notte glaciale, trascorsa sul punto più alto della Terra. Ma lui continua ad arrampicare, per cancellare qualcosa che non è solo una menomazione fisica, è una profonda ferita interiore. Infatti ha dovuto prendere una decisione molto grabosa, salvare la sua vita e lasciare un amico malato impossibilitato a muoversi, da solo, sulla cima del Liverest. Ha fatto tutto il possibile, ma ho sempre la sensazione che avrei potuto fare di più. È qualcosa che mi si è insinuato dentro, non ce l'ho fatta. Quando sono tornato a casa ho passato molto tempo, da solo, a guardarmi indietro e a pensare come sarebbe andata se invece ho un opprimente senso di colpa. Nella primavera del 1994 Mark Bichel si unì a una spedizione americana nel Tibet per tentare la scalata della famosa cresta nord del Liverest. Mark, che è neozelandese, si univa a un suo vecchio amico australiano, Mike Reinberger, che a 53 anni era il suo settimo tentativo di ascensione alla vetta. Non essere riuscito a scalarla stava diventando un'ossessione, non era il tipo di persona a cui piaceva fallire, non si rassegnava agli insuccessi. Non è che li prendesse male, ma non li accettava, era determinato a scalarla. Non sarà molto piacevole, perché bisogna lottare contro molte cose. Devi lottare contro il fatto che le tue sei precedenti visite sono state un insuccesso, perché non sei arrivato in cima. Ti porti dietro un grosso fardello, costituito dai motivi per cui in passato non ci sei riuscito. Sarà difficile non pensare a cosa potrebbe andare storto questa volta. Mark aveva l'incarico di fare da guida e con un altro collega, Mark Perry, di filmare la scalata di Mike. Se avessi immaginato l'epica lotta che avrebbe ripreso, non avrebbe mai accettato il lavoro. Non ne poteva più di fallire. Cominciava veramente a diventare l'unico scopo della sua vita. Tornò da Leverest nel 93. Il 1993 è diventato famoso perché 39 persone arrivarono in vetta nello stesso giorno, invece Mike aveva fallito. L'alpinismo ha un rapporto diretto con la morte. Le montagne si fanno rispettare per il numero delle vite che prendono. Gli alpinisti si fanno un nome per le volte che riescono a farla in barba alla morte. Ma il monte Iverest e Sagaramanta, dea madre della terra, esige il tributo più alto. Per ogni sei scalatori che raggiungono la cima, uno morirà. Quasi 150 fantasmi infestano i versanti di questa montagna. Penso che la mia vita non cambierà affatto. Sul piano personale riuscirò a mettere qualcosa da parte, semmai proverò qualcosa quando metterò i piedi sulla cima. Sarà un sollievo incredibile perché mi sto dedicando con un profondo impegno a questa montagna da tantissimo tempo. Su un piano molto più superficiale sarebbe bello tornare nella mia vecchia scuola come il primo studente del college ad avere scalato Iverest. Sarei il primo laureato nell'università di Melbourne ad averlo fatto. Se mi invitassero a prendere il tè con il vicecancelliere sarebbe divertente. Non penso che mi porterebbe ricchezza e tanto meno fama. Perché ormai Iverest non significa, non procura più fama ai suoi scalatori. La coscienza di aver compiuto un'impresa personale nel mio caso sarebbe la ricompensa. In questo gioco d'azzardo con la natura gli alpinisti scaleranno in sei tappe quella che è chiamata la zona della morte. La destinazione è il campo 6 a 8.300 metri. La sul limitare della vetta la densità dell'aria è un terzo che è a livello del mare. Il corpo muore letteralmente affamato d'ossigeno. Non riesce a generare abbastanza calore per restare caldo. L'apparato digerente comincia a mangiare se stesso. I polmoni e il cervello si dilatano tanto che il più forte degli scalatori può morire. Per un'edema cerebrale o polmonare. Se il corpo resiste e si è tanto fortunati da trovare bel tempo si può avere la possibilità di arrivare in cima e tornare. Per anni ho sentito parlare dei suoi insuccessi ma molti erano davvero dovuti alle sue valutazioni sulla montagna. non aveva molta esperienza nel prendere le decisioni. La sua debolezza era un approccio troppo tradizionale. Ne parlamo molto, io gli dissi che doveva andare a farlo. Mi chiese che volevo dire con andare a farlo. Gli risposi che doveva scegliere il giorno. Concentrarsi e impegnarsi molto. Ammetto di essermi ritrovato in balia di grande incertezza. E' un adesso o mai più. Io faccio a costo di morire. Spero non letteralmente. Ma questa situazione richiede da me un atteggiamento che in passato non ho avuto. Qualcosa che non mi tolgo dalla testa facilmente. E' il timore di rimanere intrappolato oltre al fatto di non essere abbastanza svelto. Da arrivare in cima e tornare in salvo alla luce del giorno. Aveva avuto una vita incredibile, davvero. Era veramente esperto in molti campi. Aveva una memoria eccezionale per i dettagli. Poteva farti una lezione di tre ore sulle origini della lingua inglese. Con gli altri era divertente. Aveva un vastissimo repertorio di barzellette. Era molto piacevole. Nelle conversazioni intorno a un falò da bivacco o a un tavolo. Era quello che viene comunemente definito un uomo rinascimentale perché in un certo senso era un amante del classico. Odiavo la sua musica, Dio. Era chiaro che non sapeva cantare perché era monotono. Quando canticchiava la musica classica che ascoltava noi eravamo sempre vicini di tenda e io cercavo di superarlo con i miei gruppi preferiti. Ovviamente detestava i Guns and Roses ma ero riuscito a fargli ascoltare un po' gli Smashing Pumpkins. In un certo senso per me Mike era un fratello maggiore. Il fratello maggiore che non avevo avuto. Quale metodo adotti per caricarti psicologicamente? Di solito mi lascia attraversare la mente da pensieri piacevoli che riguardano il ritorno a casa. Il poter guardare negli occhi alcune persone e dire alla fine l'ho fatta la dannata cosa. Un altro passo. Puoi sempre fare un altro passo. Perry e io avevamo fatto il passo il patto che lo avremmo preso e rialzato insieme. Infatti avremmo dovuto trascinarlo portarlo su e riportarlo indietro. Sarebbe stato così finché non fossimo arrivati al campo 6. Sfortunatamente a Perry venne una specie di anerisma. E' persa la voce. Così dovete tornare immediatamente. All'improvviso mi ritrovi da solo con Rheinberger. Ci sono già stato molto vicino in diverse occasioni. Conosco il dolore e soprattutto l'insicurezza che ognuno deve superare e che deve essere superata. non puoi farne a meno, devi superare il dolore e l'incertezza del giorno dell'ascensione della vetta. I guai per Mark cominciarono la notte prima. Avevamo stabilito di partire a luna di notte ma c'era troppo vento così decidemmo di modificare l'orario. Se partivamo alle 2 avevamo ancora una possibilità di ascendere la vetta. Invece non riuscimmo a partire prima delle 3 e mezza. Se non si è davvero molto veloci a quell'ora è troppo tardi. E' successo esattamente questo. Partimmo in ritardo. Sul Liverest e in particolar modo sulla Crista Nord la maggior parte delle difficoltà quelle più serie dell'itinerario si incontra il giorno dell'ascensione della vetta. Era chiaro che scalando in quel giorno per lui l'arrampicata sarebbe stata un problema. Bisognava affrontare tre speroni conosciuti come il primo, il secondo e il terzo gradino. Sono ripidi, esposti e addosso si hanno una tuta imbottita e i ramponi. Le cose cominciarono ad andare a rilento quando Mike salì sul primo gradino. Ricordo di aver notato che sembrava molto stanco. Fu poco prima del secondo gradino che mi resi conto di quanto fossimo in ritardo. Dave Staley che tentava la scalata con noi si voltò e disse sono le due passate. Per me è troppo tardi. Io pensavo che fossero le undici e mezza a mezzogiorno al massimo. Capì che non saremmo riusciti a raggiungere la vetta. Mi sto preparando mentalmente per questo viaggio cercando di prevedere le cose che potrebbero andare male il giorno dell'ascensione della vetta e trovare il modo per affrontarle. Sono al secondo gradino. Penso che Dave tornerà indietro non so Mark e Mike che faranno. Si stanno muovendo talmente piano. ci hanno messo otto ore per arrivare fin là. Non vedo come possano farcela. Quando arrivammo al terzo gradino c'era ancora luce ma si andava verso sera invece di essere metà pomeriggio. Vedo solo Vetu e Reinberger eccoli là vicino al primo gradino. 28 e 700 stanno andando ancora lentamente. Di questo passo ci metteranno altre due ore per arrivare in cima. Così gli dissi è andata amico ormai siamo tagliati fuori. Fu come se non ci fossi ero sbalordito. Chiese quanto era lontana la vetta. Gli risposi è troppo tardi e è almeno che era lontana la vetta. Grazie. Grazie a tutti.